C'è un immaginario horror a cui ti sei ispirato? Puramente horror? No, non direi, perché in realtà poi il film è passato un po' come horror, thriller, ma in realtà ha molte più cose del thriller che dell'horror. In effetti ci sono alcune scene che sono un po' più sanguinose, un po' più di effetto, in effetti, mi si passi il gioco, e poi in realtà il film è giocato molto appunto sull'interazione tra i personaggi, è un film che ha tutta una serie di indizi sparsi lungo la storia, che poi alla fine si stringono tutti quanti nel finale. L'immaginario sì, insomma inevitabilmente io sono di una generazione come probabilmente te, in cui Seven ha cambiato il modo di fare cinema, in cui Il Senso degli Innocenti ha comunque dato un concept diverso del thriller, perché una tensione, un certo tipo di montaggio, un certo tipo di gestione anche della cosa. E poi insomma siamo italiani, per cui veniamo da tutto un filone di film di genere, da Dario Argento, i primi film dove c'era sì l'horror ma c'era anche tanto giallo, che è in qualche modo una tinta presente comunque nel film. Per gli effetti visivi avevi qualcosa in mente prima di girare o è stato tutto un lavoro durante? No, beh gli effetti visivi purtroppo per loro natura devono essere pianificati, altrimenti è un bagno di sangue, che comunque abbiamo rischiato, nel senso che poi alla fine era la nostra prima produzione di queste dimensioni. Ci siamo comunque trovati, quando tu fai una scena dove sono previsti gli effetti speciali, inevitabilmente qualcosa della scena è più complicato di come te l'hai immaginato, per cui insomma abbiamo avuto tre santuomini appesi per tre ore e mezzo su un palo verde che poi andava tolto, ma intanto quelli poveracci si sono fatti le loro tre ore sul palo e un'altra serie di vicissitudini di questo tipo. Però devo dire che poi gli effetti sono una grande risorsa, soprattutto quelli... Io apprezzo molto il fatto che noi abbiamo usato alcune cose di effetto, cioè l'effetto che poi vedi, e tantissime cose di effetto che non si vede, per cui tutti i panorami che vedi dalle finestre sono in realtà verde, sostituito, e che è l'effetto che io apprezzo di più. Nel tuo bagaglio professionale c'è la TV, i video musicali, il cinema, i corti, qual è il peso di queste esperienze che entrano e sono entrate nel tuo ultimo film? Beh, io penso che tutte le esperienze fanno un po' da crash test. Io quando ero molto più piccolo, quando ero giovane, direi, ho avuto la fortuna di lavorare in Rai, da freelance però, insomma, ho avuto la possibilità di fare una cosa e fondamentalmente ho fatto il trial, cioè nel senso che ogni volta che usciva una cosa nuova, un obiettivo diverso, dai proviamo così, no? A spese comunque della buona redazione e credo che un po' tutte le cose siano, cioè comunque un po' tutto quello che fai, tra quello che vedi e quello che metti comunque sullo schermo, sul video, sulle cose, poi alla fine ti servono per capire come funzionano alcune cose, no? E quando ti trovi a doverle usare ce l'hai un po' in questa specie di borsetta degli attrezzi che ti porti appresso. Seconda giovinezza per il cinema horror a livello mondiale, ma anche italiano, alcuni titoli, le morti di Jan Stone, i Mago Mortis, quindi c'è una seconda giovinezza. Come giudichi in questo momento? Ma io spero che si venga fuori una seconda giovinezza per anche gli altri generi, perché in realtà noi abbiamo fatto, insomma, ci siamo avventurati in tempi non sospetti, anche su cose, voglio dire, il western, gli spaghetti western, piuttosto che i poliziotteschi, come vengono gli altri, cioè voglio dire, abbiamo fatto dei film di genere che per l'epoca erano divertenti e che oggi comunque ancora insegnano tante cose, no? Magari l'horror è sicuramente il genere più facile da veicolare, perché comunque è un genere di grande impatto. Ah, se vuoi, meno impicci dal punto di vista sceneggiatura, dal punto di vista costruzione, anche di credibilità, perché tutto sommato tu prendi quattro ragazzi, li metti in un furgone, li mandi in vacanza da qualche parte, li fai ammazzare tutti e quattro e diciamo che in generale abbiamo coperto un horror. Gli altri ci hanno un po' più di va, però, cavolo, noi scriviamo delle cose fantastiche, abbiamo fatto noi, insomma, gente che mi ricordo che noi no, però per cui io spero veramente che sia l'inizio dei generi, non dico il peplum che magari è un po', insomma, dopo gladietro diventa difficilino confrontare. Roma l'hanno fatto, quindi? Sì, sì, televisivamente, però insomma, magari, ecco, il genere ti dà tante possibilità, perché delocalizzando una cosa, cioè estremizzando una situazione, poi fa quello che vuoi. Vincenzo è una produzione italiana con un cast selezionato all'estero, poca fiducia negli interpreti nostrani o la voglia di mettersi in gioco nel mercato internazionale? Dovendo raccontare una storia dove, insomma, non è che sia proprio, diciamo, il top del neorealismo, o comunque della contemporaneità, mi è sembrata la scelta più facile. Poi sicuramente è inutile negare che è più facile vendere all'estero, cioè avere uno sbocco all'estero con English speaking che non con un film doppiato, insomma. Questa è un po' la cosa. Poi massimo rispetto per i nostri interpreti. Spesso l'ostacolo maggiore per un film italiano è arrivare nelle sale e restarci, quindi essere visto da tutti e da una maggior parte delle persone. L'appoggio dell'Istituto Luce nella distribuzione è in questa direzione? Ma io in questo momento ho un busto di Sovena nell'ufficio, che omaggio con dei fiori ogni giorno. Ma quando noi abbiamo fatto un incontro con l'Istituto Luce, che è stato meraviglioso, perché sono venuti a vedere il film, e già questa cosa noi non ci credevamo che fossero spostati per venire a vedere il film, sono usciti entusiasti, ci hanno detto che gli piacesse e lo sarebbero preso. Dopodiché Sovena ha detto una delle cose più fatte. Mi ha detto, ma dovevate venire subito da me? E io ho detto, ma Luciano, ma chi se lo immaginava? Devo dire, loro hanno questo momento di apertura, sia ai giovani, comunque ai nuovi, e anche ai nuovi generi, anche alle nuove cose, che viva Dio che ci sia in questo momento un Istituto Luce che ti lascia un po' di spazio. Il problema è veramente di spazi, nel senso che è ovvio che ci sono dei mostri sacri, o comunque delle cose che occupano tutti i calendari delle altre distribuzioni, e un indipendente come il nostro, fatto da una piccola società, comunque che è un film DJ, comunque ha mille problematiche per le quali poi non diventa non appetibile, perché nessuno ci ha detto che è un brutto film, ma molti ci hanno detto che per noi è un problema perché non sapremmo come può inserirlo nella maniera giusta nel nostro calendario, dandogli un risalto. In realtà l'Istituto Luce è stata un po' la manna dal cielo in questo senso, e ti ripeto, credendo nel prodotto, per cui investendo, è stato, insomma, grazie. Dopo Visions che bolle in pentola, nuovi progetti? Dopo Visions stiamo lavorando a... Abbiamo un thriller molto bello a cui stiamo lavorando, la sceneggiatura è già stata completata, ed è di John Shepard che ha fatto anche la consulenza su questa sceneggiatura, e poi stiamo lavorando a una commedia, una delle due cose, insomma, stiamo parallelamente cercando di mettere insieme questi due progetti, e poi, come tu sai, ne metti insieme nove per portarne a casa uno, per cui... Però in questo senso, insomma, siamo abbastanza fiduciosi, perché speriamo, ecco, appunto, l'uscita cinema, poi tutte queste cose in qualche modo ti facilitano, nel senso che nel momento in cui tu esci al cinema c'è un minimo di credibilità, allora riesci a presentare le cose, insomma, vediamo, speriamo di rincontrarci presto per il prossimo. Ok, in bocca al lupo.